sui social e nella vita giudicare altri è facilissimo ma è sempre sbagliato perché nessuno potrà mai sapere cosa è successo e succede nell'anima di chi condanni il tuo giudizio uccide senza sentenza uccide lentamente e distrugge un mondo il suo sembra sempre tutto diverso dal lato di chi osserva soprattutto quando è impossibile capire e sentirlo sulla pelle osserva ascolta studia e fatti una tua opinione ma nessuno ha il diritto di giudicare e ancora di più di parlare male di te perché allora dovresti avere il diritto di farlo con gli altri credi la vita è un giro prima o poi toccherà anche a te la teoria ci insegna a guardare lontano e la pratica ci insegna a guardare attentamente sotto ai nostri piedi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti